ti saluto con la pace di gesù dio di benedica oggi venerdì 18 febbraio 2022 ancora una volta possiamo ringraziare il dio certo perché siamo vivi perché possiamo ascoltare la sua parola perché possiamo fare le nostre possiamo portare avanti le nostre responsabilità godiamo di buona salute ma anche se non godessimo di buona salute sarebbe comunque un buon motivo per lodare e ringraziare il signore per un semplice motivo perché abbiamo la vita e perché possiamo ancora vivere in mezzo ai nostri cari in mezzo a questo mondo e possiamo fare quello che dio ci ha chiamati a fare oggi ci ha chiamati ad ascoltare la sua voce la sua parola che ascolteremo immediatamente attraverso un versetto della parola di dio che dice proprio così mettendoci da parte vostra ogni impegno aggiungere alla vostra fede la virtù alla virtù la conoscenza alla conoscenza l'autocontrollo all'autocontrollo la pazienza alla pazienza la pietà alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore seconda lettera di pietro capitolo 1 i versetti che vanno dal 5 al 7 e il titolo di questa meditazione biblica è proprio questo impegno nel versetto di oggi è contenuto qualcosa di più di un consiglio o di un'esortazione si tratta di un ordine aggiungete un ordine da eseguire mettendoci ogni impegno all'anello iniziale della fede siamo chiamati ad aggiungerne altri per formare una catena che si conclude con l'amore questo sentimento ancora più elevato dell'affetto fraterno e nello stesso tempo il primo risultato il primo aspetto del frutto dello spirito proprio come lo troviamo scritto nella lettera egale di capitolo 5 versetto 22 il frutto dello spirito è amore l'amore che pure proviene dallo spirito e non e non è da noi stessi e da ricercare e da coltivare da parte nostra con impegno forse proprio perché non sorge spontaneo dentro di noi ma lo stesso impegno ci è richiesto se desideriamo che nella nostra vita siano visibili tutti gli aspetti di quel frutto che lo spirito santo produce che non è solo l'amore ma sono diverse impegnatevi quindi a fare il bene davanti a tutti gli uomini proprio come scritto nella lettera ai romani capitolo 12 versetto 17 fare il bene è un'espressione che ci apre un ampio ventaglio di possibilità finché ne abbiamo l'opportunità facciamo del bene a chi a tutti ma specialmente ai fratelli in fede come lo trovi scritto nella lettera ai gala di capitolo 6 versetto 10 pur tenendo conto delle precedenze indicate non possiamo escludere nessuno perché davanti a tutti gli uomini perché la testimonianza palese porti gloria a dio non è per mettere noi stessi in evidenza ed essere ammirati da tutti oh che bravo che bravo che tante belle azioni che fa se così fosse non si tratterebbe del frutto dello spirito sarebbe frutto delle nostre capacità l'impegno ci è richiesto anche per ricercare e mantenere la pace nelle nostre relazioni con tutti senza dimenticare però la purezza impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione proprio come scritto nella lettera agli ebrei capitolo 12 versetto 14 anche la pace nelle nostre relazioni va perseguita con impegno e non può essere realizzata venendo meno a ciò che il signore ci chiede siate santi in tutta la vostra condotta proprio come scritto nella prima lettera di pietro capitolo 1 versetto 15 in nessun momento della nostra vita ci è consentito di condividere il male perché il male non appartiene a gesù il male non appartiene a dio il male appartiene al nemico delle anime nostre al diavolo che lui cerca di farci del male non solo cerca di indurci a fare del male anche agli altri quindi evitiamo ogni cartiveria ogni malizia ogni invidia ogni gelosia sbarazziamoci di tutte queste cose dell'ira delle contese guardiamoci con gli occhi di gesù quegli occhi che hanno dato la sua lui ha dato la sua vita per me per te perché lui ci guardava con gli occhi dell'amore ci guardava con la speranza che un giorno potessimo essere salvate se solamente ci saremmo affidati a lui quindi con questa pazienza con questo amore con questa gioia rivolgiamoci a lui e cerchiamo di ricevere da lui tutto il bene che lui ha preparato per noi affinché lo possiamo iniziare a dare anche agli altri non per vana gloria non per sentirci dire grazie non per sentirci dire oh ma che bravo quel ragazzo è un bravo è un uomo di dio no 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 vogliamo farlo per dare gloria a dio e per nient'altro dio di benedica e che dio di riempia di spirito santo per poter essere un potente testimone dell'evangelo attraverso sì la tua bocca ma attraverso anche la tua vita e il tuo amore ti saluto con la pace di gesù e ci vediamo domani al solito appuntamento